un giro risultivo sbagliato a riparzo però controlla Dario Hunt che va fuori da Aradori tiro apertissimo per il numero 4 che non sbagliano va da bersaglio che va da Pietro Aradori e blocca un po' più gravitico i danni di Gabriele Procida e poi Pietro Aradori il basso trono riesce a liberarsi dell'uomo allora serve poi dopo Fanchinelli Pietro Aradori che è caldo questa sera segna con un piede sulla linea altri 14 secondi per l'apportituto con Aradori blocco, vinto blocco Hans-Giant va dentro Aradori contro Keynes e trova due punti fondamentali Pietro Aradori a 1 minuto 18 dalla fine della partita più 6 fortitudo